Se l'ho dato Gesù Cristo, buona domenica a tutti quanti, terza di Pasqua. È il racconto dei due discepoli di Emmaus che la liturgia ci propone quest'oggi, un racconto lungo, molto bello, descrittivo, intenso, di Luca. Luca dice che aveva intervistato i testimoni dei fatti di Gesù. E viene da pensare che questi due personaggi abbiano raccontato a Luca qualche dettaglio e la loro esperienza è stata così, proprio registrata da Luca. Sembra di essere infatti lì con loro, mentre camminano sulla strada, sconsolati, col volto triste, e Gesù si approssima loro e comincia a parlare ed essi non lo riconoscono. Anzi, lo giudicano, sei solamente tu così straniero da non conoscere che cos'è accaduto. Il Messia che noi credevamo, speravamo, ha fatto miracoli, testimoniava Cristo, testimoniava di essere Cristo, quindi testimoniava la potenza del Padre, segni, miracoli, ma i nostri capi l'hanno consegnato, è stato crocifisso. Poi dicono che è risorto, dicono. Sono delle donne, ci hanno sconvolti, però essi sono tristi dentro e si stanno allontanando da Gerusalemme. C'è come un allontanarsi dal centro focale di quello che era stato la speranza di Israele, profetizzata da millenni, un'altra delusione dopo altre due, non simile a Gesù, ma di altre due persone, Giuda e Teuda, che dicevano di essere il Messia, certamente con un risvolto più politico. Dunque dentro al cuore c'è qualcosa di infranto che provoca a loro un grande dolore, il dolore per la sorte di un uomo meraviglioso che essi stimavano e che essi avevano investito delle loro speranze, Gesù, ma al tempo stesso anche il crollo di una speranza che abbatte la fede anche dei più credenti. Quando il male, le istituzioni che si rivestono di male colpiscono e colpiscono ancora, la gente si sente come dentro una massa senza potere, senza possibilità se non che subire i colpi, non della versa fortuna, ma di chi tiene il potere. Con questo volto sconsolato, con questa tristezza nel cuore profondo, essi, e per questo, non sono in grado di riconoscere Gesù, il quale li accompagna, abbrate bene, e da interlocutore ignaro in realtà si dimostra essere molto ferrato sulle cose spirituali, sulla scrittura, sulle profezie, e dice che il Messia doveva avere questo percorso perché era scritto il Cristo, il Messia, era stato profetizzato non solo come sua presenza e arrivo in una certa epoca, anche con certi calcoli indicato in modo approssimativo, ma aveva anche delle caratteristiche, un destino, e spiega loro tutte quante le scritture, apre il senso delle scritture, ed essi sentono il cuore che arde dentro al loro petto fisicamente, un segno abbastanza tipico che noi conosciamo, il cuore ardente, un fenomeno mistico. Ma ancora non comprendono, ma il fuoco sta ardendo dentro di loro e sta cambiando quello che è lo stato del loro cuore e la loro durezza, il loro essere tardi a comprendere. La chiave di volta che Gesù mostra è la comprensione delle profezie e di tutta la scrittura che parlano di Lui. E poi lo riconoscono, insistono, perché rimanga, perché avvertono, oltre a questo fenomeno dell'ardore del cuore, avvertono che c'è sapienza, c'è luce in Lui, lo invitano a non andare oltre, a stare con loro, e ormai si fa sera, sono a undici chilometri da Gerusalemme. Cenano insieme e lì si svela ai loro occhi. Questo processo di disvelamento e quindi vediamo che va di pari passo ha un processo di modificazione e di apertura del cuore il quale avviene per la conoscenza e la comprensione profonda della scrittura. Allora il Cristo è riconoscibile. Altrimenti si ha la possibilità di incontrare fisicamente Cristo ma non riconoscerlo. E non riconoscerlo vuol dire che lo stato del nostro cuore rimane triste, pieno di speranze umane, ma deluse, senza comprendere la potenza di Dio come opera in questo mondo devastato dal male, ma con potenza perché fa risuscitare i nostri cuori. Il grande insegnamento anche per noi attualmente è appunto questo. L'incontro con il Cristo è fatto attraverso una conoscenza materiale e una frequenza materiale del Cristo. Che vuol dire conoscenza materiale e delle scritture, cosa c'è scritto, non sapere che esistono, ma cosa dice questo e quello d'Angelo, le profezie, la legge, i comandamenti, i libri sapenziali, i salmi. E un altro incontro materiale che è dato dalle celebrazioni dell'Eucaristia e dunque anche i sacramenti che la preparano e la rendono possibile come la riconciliazione. Questo incontro materiale fatto di scrittura, la Bibbia tenuta in mano e letta, la frequenza dei sacramenti fatte con fedeltà e assidità si devono accompagnare, ma sono anche la condizione per entrare in una seconda dimensione che permette il riconoscimento del Cristo profondo. Ovvero, noi possiamo stare di fronte a un libro che è la Bibbia, possiamo stare di fronte a un sacramento che si celebra che è la Santa Messa, ma non con questo, non dico percepire la presenza di Gesù, non è di questo che stiamo parlando, ma avere nel cuore la forza dello Spirito che permette di comprendersi nella realtà in cui si vive, di avere la forza vitale di affrontarla e questa forza di amore che getta luce su ogni cosa, speranza su ogni cosa e fede sempre più certa in quelle che sono le parole di Gesù che all'improvviso si chiariscono. Con questo amore presente nel nostro cuore che arde, fa ardere il nostro cuore, quella scrittura che era lettera morta diventa viva, cioè è quella che mi sta parlando in quel momento e mi sta spingendo con forza dal di dentro. Guardate bene, non mi tira dal di fuori con un senso di dovere che è un po' dato da un'imposizione che noi riceviamo o ci diamo, ma è una spinta da dentro che si chiama amore, una spinta originaria che mi spinge a cercare, a volere e a fare, ad agire, sempre nel senso del bene come facendo riferimento, come attingendo a una sorgente vivissima che non ha fine. È la potenza di Dio. Gesù immette nei cuori dei discepoli di Emos la conoscenza profonda e spirituale della lettera della legge della scrittura dei profeti e si fa riconoscere lì. Ma senza questo fuoco quella scrittura può rimanere lettera morta, come dice anche San Paolo. Questo fuoco è dunque dono del Cristo, ma anche al tempo stesso passa attraverso le parole della scrittura che lo raffigurano, lo rappresentano e dunque lo rendono riconoscibile sia l'intelletto che è allo spirito. È un doppio movimento dunque quello che è l'incontro materiale con Gesù e la scrittura e i sacramenti e l'incontro spirituale cioè il senso profondo, il fuoco acceso nelle lettere e la presenza reale nell'Eucaristia che noi dobbiamo sempre intendere. Allora quello che è riconoscimento non è semplicemente il riconoscimento di un aspetto fisico di Gesù ma è l'incontro e il riconoscimento dell'anima con il Cristo il Salvatore della mia anima. Questo è quello che deve e può avvenire per dono di Dio per nostra predisposizione a ricevere questo dono. Non è una questione di sentire ma di riconoscere con profondità quelli che sono le pulsioni al bene che sono opera di Dio e non sono frutto del nostro essere. Questo sarebbe solo vanagloria purtroppo riferire a se stessi il bene e agli altri in male. San Paolo dice quello che c'è in male è tutto mio il bene viene tutto da Dio. Questo riconoscimento del bene è ciò che lo Spirito Santo chiede per dare gloria a Dio e allora con maggior potenza forza amore e ardore di cuore noi possiamo essere spinti a vivere questa vita che è fatta di poche cose materiale e finisce e una lotta continua ma che preclude all'ingresso al passare attraverso una porta che è quella del Regno di Dio e questa porta è Cristo stesso. Dio vi benedica. Dio vi benedica